Buongiorno Raffaele. Raffaele, vediamo qui davanti una, diciamo, diversità di soluzioni tece. Ci aiuti a capire in che campo ci possiamo muovere un progettista che cosa ha l'opportunità di scegliere? Nella progettazione di un sistema radiante, se lavoriamo su una nuova costruzione o su una ristrutturazione, a volte necessitano delle soluzioni diverse. Se per esempio si lavora in una ristrutturazione dove spesso gli ingombri, gli spazi di cui il cantiere ci permette, sono molto ridotti, quindi si va a lavorare con delle soluzioni ribassate, quindi spessori di pannelli molto bassi su cui possiamo anche andare a posare delle livelline per ridurre lo spessore complessivo dell'impianto, oppure con soluzioni a secco, quindi soluzioni che non prevedono assolutamente l'uso di malte o livelline, ma andiamo a lavorare senza di queste. Se invece andiamo a lavorare in una, andiamo a, diciamo, realizzare un impianto in una nuova costruzione dove gli spessori solitamente sono maggiori, gli spessori a disposizione, possiamo andare a utilizzare i classici pannelli con spessori diversi per rispettare le normative delle dispersioni verso il basso, soluzioni con pannelli termoformati, pannelli preformati, pannelli a rotoli o soluzioni con pannelli piani. Grazie mille.